bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video siamo sempre su minecraft e oggi siamo per il secondo episodio di questo let's play nel primo episodio abbiamo abbiamo visto come era un pochino il mondo abbiamo iniziato questa avventura che direi sta andando abbastanza bene perché come già avevo detto siamo sparati in un buon luogo in questo episodio volevo un pochino iniziare l'esplorazione in miniera allora andiamo a procurarci subito della legna perché ci serve per costruire le torce e poi andiamo a dormire perché sta facendo notte e qui io non vorrei incontrare vari mob poi andiamo a craftarci il piccone inferno perché ci servirà perché in caso troviamo pietra rossa diamanti mettiamo questo caso che troveremo di diamanti ecco qui ho messo questo a cucinare mettiamo anche questa allora andiamo a craftarci non ho gli stili no allora abbiamo i nostri bastoni e ora andiamo a craftarci il piccone inferno aspetta dove sono ah ecco qui non li trovavo ecco poi andiamo a prendere il ferro ed ecco qui il nostro piccone inferno possiamo usare anche questi lingotti poi andiamo a prenderci questa carne e andiamo a cucinare quest'altra carne intanto andiamo a dormire ecco qua amo anche della lana marrone non me ne ero d'accordo ecco qui abbiamo la nostra carne quindi direi che siamo attestati per questa esplorazione in miniera ecco l'arbero mi ha droppato una mela che la vado a raccogliere non vorrei fare l'errore di prima ed ecco qui scendiamo e partiamo subito anche se di qui non voglio assolutamente andare di qui mi pare che è meglio avevo visto comunque un'altra entrata eccola aspetta andiamo a craftarci subito queste torce il carbone ecco qui dove sono finite eccole qua questo possiamo levare abbiamo subito del carbone che lo andiamo a recuperare come potete vedere questo piccone molto più veloce scavare rispetto a quello in legno non lo recupero tutto perché tanto di carbone se ne trova veramente in grandissima quantità quindi si trova anche molto spesso come potete vedere qui c'è l'altro carbone andiamo posizionare altre torce per evitare che mob spawnino eccoci qua sento qualche arciere non vorrei qualche brutto incontro ecco qui abbiamo anche del ferro che lo andiamo subito a recuperare che cavolo mi sono caro di costruttura aiuto creeper nooo non voglio morire aiuto no dai raga nooo siamo morti subito ma che cavolo ma che cavolo dai subito al secondo episodio già siamo morti la prima volta e che cavolo io non volevo morire neanche una volta e invece guardate che c'è lì morire 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 non muore mai oh disgraziati allora sistemiamoci il nostro inventario ai ai ma perchè giusto appunto oppure sta annudito e che cavolo ancora questi creeper basta ha illuminato un po' la zona che ora mi sto arrabbiando a un altro e muori mamma mia no raga troppo troppo complicato oh porco due va aiuto nooo muori bastardo no dai ma tu pure ma che cosa vuoi mamma mia sono abbastanza sprovvisto non dovevo neanche andare in miniera sono una testa di cavolo mamma mia un altro e muori guardate che c'è la non voglio sporciare troppo in caso mai arriva qualche mob oro oro subito ai ai come lo dobbiamo recuperare allora intanto mettiamo qualche torcia altri me eccolo lì un bel creeper un canyon penso che sia uno zombie un altro creeper ma che cavolo no dai non scendo raga tanto di oro poi lo troveremo in futuro ai ai noo un creeper vai via nooo non esplode che c'era del ferro nooo vai via ho storto oh che cavolo non ci voleva quella morte veramente ci sono rimasto male mamma mia mamma amore amore disgraziato mamma mia raga no mi voglio addentrare troppo anche perchè ancora siamo abbastanza sforniti di armature mamma mia anche perchè come potete aver visto il creeper all'inizio quando siamo morti ci ha allevato tutta la vita anche perchè io non l'avevo visto mi era arrivato alle spalle cavolo cavolo se lo vedevo non morivo sicuramente stanno finendo le torce mi sa che le dovrò ricraftare ho sentito un arciere allora andiamoci a craftare le torce vabbè raga diciamo che l'esplorazione di oggi è andata bene a parte per quella volta che sono morto questa esplorazione continuerà sicuramente nel prossimo episodio ora recuperiamo questo ferro eh vabbè non ci voleva con la morte vabbè dai vabbè raga noi ci vediamo ad un prossimo episodio dai non stai solo non ci vediamo non ci vediamo il prossimo episodio